Ciao, oggi parliamo della serie Pro Selected di Takamine, una serie di strumenti veramente speciale, veramente esclusiva, creata appositamente per il mercato italiano. Attraverso la stretta collaborazione di Gold Music e della sua divisione acustica e dei maestri Liu Tai del prestigioso marchio giapponese fondato nel 1962. La serie Pro Selected si articola in quattro modelli di chitarra acustica, quindi steel string, come quella che imbraccio in questo momento, e un modello di chitarra classica appartenente ai diversi modelli del catalogo Takamine. In particolare, qui accanto a me, possiamo vedere il modello appartenente alla serie 2, il modello appartenente alla serie 3, due modelli di chitarra acustica appartenenti alla serie 5, sempre quello che imbraccio in finitura Sunburst e in finitura Natural, e un modello di chitarra classica, sempre appartenente alla serie 5. Come potete vedere, i modelli di chitarra acustica hanno tutti uno shape, quindi una forma di cassa di tipo Dreadnought, cutaway, quindi con questo spallamancante veneziano molto morbido, così come pure cutaway il modello di chitarra classica. Tutte le chitarre sono in legno massello per quanto riguarda il top e il fondo, hanno finitura gloss, quindi lucida, sia sul manico che sulla cassa armonica e sono dotati dell'elettronica più avanzata che Takamine possa offrire. Ovviamente a seconda del modello l'elettronica cambia, ma approfondiremo l'argomento nelle prossime settimane quando passeremo in rassegna i singoli modelli. Ciao a tutti, ci vediamo e ci ascoltiamo prestissimo!